La ricerca collaborativa è uno strumento importante perché aiuta tante imprese, indipendentemente dalle dimensioni, in particolare alle piccole e medie, a trovare delle risposte su tematiche spesso difficili da affrontare da soli, quali sono quelle di innovazione. E in particolare perché la ricerca collaborativa o anche l'open innovation ci consente di non replicare, di non fare delle cose che già sono disponibili e che magari know-how che è reperibile in centri di ricerca università o anche magari presso tante altre aziende partner. La relazione tra imprese e centri di ricerca è sempre stata un po' vissuta conflittualmente per obiettivi magari non sempre perfettamente coincidenti, devo dire che oggi sicuramente è migliorato molto questo tipo di rapporto, i linguaggi, le culture, le mentalità si sono avvicinati, sicuramente il modo migliore è quello di lavorare assieme, di lavorare assieme cercando di capire l'uno e le esigenze dell'altro, le esigenze dei tempi, le esigenze della necessità di un risultato immediato e vendibile per le aziende e anche magari le esigenze invece più accademiche e di studio per quanto riguarda l'università. Sicuramente è un processo che va affrontato nel medio termine per trovare i partner giusti, i centri di ricerca che possono darci delle risposte, quindi è un processo che dà grandi risultati ma molto efficace nel medio termine.